Un'iniziativa importante, quella promossa da Altro Consumo, Google e la Polizia di Stato qui all'Università Europea di Roma, abbiamo parlato del nuovo regolamento privacy europeo focalizzando soprattutto quello che è l'aspetto della protezione dei dati nell'era digitale quindi come difendersi, come difenderci nell'ambito online, nel digitale, nell'Internet of Things nell'Internet delle cose, di fronte ai big data, insomma tutte le sfide che le nuove tecnologie portano ai nostri diritti fondamentali. È stato molto interessante, c'erano studenti ma anche noi esperti che siamo intervenuti ci siamo sentiti studenti, nel senso che è bello confrontarsi, interpretare le normative e anche provare a immaginare, ad anticipare qualche tutela qualche autotutela per il futuro che magari non sta scritta nelle norme che ci sono oggi anche quelle approvate più di recente.